Prenderà via da Urzulei il ciclo di incontri di disseminazione dei grifoni sul territorio. Lunedì 13 giugno alle 10 presso l'hotel Gorropu in località Silana si parlerà del ruolo delle guide ambientali per la reintroduzione dei grifoni in Sardegna e l'idea che ispira il coinvolgimento delle guide ambientali all'interno dei processi virtuosi innescati dal progetto per la sopravvivenza a lungo termine dei grifoni in Sardegna. I partner del progetto Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Sassari, l'Agenzia Regionale Forestas, il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale e Distribuzione e Vulture Conservation Foundation inaugurano con questo evento un ciclo di iniziative di disseminazione territoriale che hanno lo scopo di includere le comunità locali tra gli attori attivi di un processo fondato sui principi dell'economia circolare e della sostenibilità e finanziato nell'ambito del programma per l'ambiente e l'azione per il clima LIFE 2014-2020. Ad aprire l'incontro realizzato con il patrocinio del comune di Urzulei, della Proloco di Urzulei, del CEAS Supramonte e del gruppo archeologico speleologico ambientale Urzulei Gasau, saranno i saluti di Ennio Arba, sindaco di Urzulei e di Michele Pugeddu, direttore del Servizio Territoriale di Forestas all'ANUSEI. Seguirà l'intervento di Fiammetta Berlinguer dell'Università di Sassari che illustrerà il progetto. Al grifone e al suo ruolo fondamentale per l'ecosistema sardo sarà dedicato il focus di Giovanna Serra e Dionigi Secci di Forestas. Giovanni Tesei, del Corpo Forestale, racconterà l'esperienza del nucleo cinofilo nella lotta contro l'uso illegale del veleno, mentre la guida turistica Fabrizio Vella di Quintula parlerà del ruolo delle guide del territorio. Chiuderà la giornata il fotografo naturalista Domenico Ruiu con una testimonianza della storica presenza del grifone nel territorio circostante e in generale in Sardegna. Al termine del suo intervento ci sarà spazio per domande e approfondimenti. L'evento rivolto in prima istanza alle guide turistiche ambientali del territorio e di tutta l'isola, ma la portata e la varietà dei temi affrontati ne fanno una buona occasione di confronto per amministratori locali e altri attori economici, sociali e culturali del territorio.